Marcello, tu che ci fai qui? Ho un nuovo gruppo e sono venuto a riprenderti. A riprendermi? Ma tu sei stato scelto da Dio. Non stai con Dio adesso? Io non sto con nessuno. Voglio stare solo con te. In questo momento non è possibile. Anzi, verresti bene ad andartene. Perché? Perché leccio!